La storia a cui state per assistere è vera, o quasi vera. Diciamo che è certa, anzi no, non posso dire neanche questo. L'unica cosa di cui posso assicurarvi è che di tutte le nostre indagini questa è stata la più intricata e in tutta la mia vita non ho mai vissuto un'esperienza così terribile come questa, come quella che hanno vissuto gli abitanti di Londra del 1888.